ciao domotici benvenuti sul canale pensiero architetto oggi andremo a vedere le novità di omasistan la versione di settembre la 2022.9 ebbene sì perché proprio mentre voi eravate in ferie gli sviluppatori di omasistan hanno continuato a lavorare e hanno introdotto alcune novità veramente interessanti e che ci faciliteranno di molto l'uso di omasistan in particolare le nostre automazioni ok ragazzi seguitemi venite con me andiamo a vedere cosa c'è di nuovo in questa nuova versione ma prima iscrivetevi al canale mettete mi piace lasciate un commento e fate crescere questo benedetto canale dei pensieri dell'architetto dai avanti con la sigla e scopriamo le nuove novità di omasistan 2022.9 ed eccoci qua sul nostro blog di omasistan andiamo a vedere la release 2022.9 con le sue novità la prima cosa che ci salta all'occhio e il nuovo editor delle automazioni infatti è stato fatto un aggiornamento ux per ottenere più facilmente una panoramica della tua automazione e concentrarti su ciò su cui stai lavorando i trigger condizioni di stato ora offrono il completamento automatico per i stati identità andremo a vedere insieme come realizzare una nuova automazione e vedrete che sarà tutto molto intuitivo e automatico in più viene migliorato il supporto per l'adattatore multi e remoto per bluetooth addirittura con un proxy bluetooth prosegue infatti le modifiche e le integrazioni nuove dei bluetooth attivati già dalla versione 2022.7 e 2022.8 andate a vedere il mio video che vi lascio qua in sovrimpressione dove spiego per l'appunto queste novità. altra novità importantissima di questa versione è l'introduzione di un nuovo helper un nuovo assistente per la programmazione settimanale vi ricordavate quanto ci voleva per fare una programmazione settimanale magari per l'impianto di irrigazione o per accendere le luci a determinata ora del giorno della settimana bene con questo sarà molto più semplice andremo a vedere anche qua come fare perciò seguitemi nel video poi ci sono tutta una serie di modifiche secondarie tra cui agli aggiornamenti del firmware z-wave ora disponibili in piattaforma home assistant alla cosa interessante vediamo che sono i nostri dispositivi zigbee infatti ora per il zigbee è previsto un backup di ripristino più la relativa migrazione andrete poi a vedere come impostare il tutto appena riuscirete a scaricare la nuova versione 2022.9 fate attenzione che ci sono qualche problema sul zigbee 2 mqtt vi consiglio di installare lo zh che effettivamente è un po più rustico ma funziona sempre vengono incrementate nuove informazioni legate al processore all'utilizzo della nuova memoria molto interessante per monitorare il nostro home assistant infatti se ricordate io ho fatto proprio una sottossessione del mio dashboard ho tutte le varie entità del mio raspberry e così riesco a tenere sempre tutto sotto controllo poi ci sono di nuovo tutte le serie di modifiche minori degli ad note andatevele a leggere poco per volta e vedete se qualcosa che può interessare a voi è ora di passare alla pratica e andiamo a vedere come fare un'automazione col nuovo aggiornamento bene eccoci qua sul mio home assistant sulla versione installato sulla macchina virtuale io ho aderito alla versione beta vado a installare il nuovo aggiornamento del 2022.9 non faccio il backup perché tanto su questa macchina virtuale non ho problemi di perdere dei dati vado in impostazioni automazioni qua posso selezionare i nostri progetti ma non nel nostro caso andiamo a iniziare una nuova automazione vedete che qua c'è già la nuova configurazione clicchiamo su aggiungi attivazione andiamo a selezionare nostro caso un dispositivo faremo un'automazione veramente semplice selezioniamo non so una luce della scala scala andiamo a dirgli quando è attivata da almeno un asso di tempo che potrebbe essere un minuto e andiamo a inserire la nostra condizione vedete che tutto automatico e guidato e qua andiamo a selezionare ad esempio il sole gli diciamo che come condizione deve essere praticamente dopo l'alba ipotizziamo una cosa strana che io lascio la luce accesa diciamo tutta la notte e andiamo ad aggiungere un'azione qua possiamo scegliere tantissime cose come richiamare magari degli eventi oppure nel nostro caso andare a selezionare direttamente il dispositivo che è qua sotto eccolo qua reselezioniamo il dispositivo scala vedete che tutto molto intuitivo eccolo gli diciamo spegnere scala salvo la mia automazione gli metto un titolo e l'automazione ragazzi è già fatta in alto troviamo le tracce torniamo sempre in automazione andiamo a di nuovo a cliccarla sui tre pallini sempre in alto a destra troviamo le informazioni e qua vedete vediamo tutte le cose legate all'automazione possibilità di eseguirla change mode per la modalità singolo riavvia in coda o parallelo il rinomina se vogliamo rinominarla un riordino delle varie condizioni e azioni che siamo andati a fare la possibilità di duplicarla e il nostro modifica del codice in YAML per non perderci niente del nostro codice si può disabilitare e qua sopra cliccando si abilita di nuovo la nostra automazione avete visto com'è facile altre novità molto importante che ci facilita l'uso di home assistant lo troviamo in dispositivi servizi aiutanti e andiamo a creare un nuovo aiutante crea aiutante andiamo a selezionare programma ecco questa è un'entità che è stata inserita per la prima volta in questo aggiornamento che va ad aiutarci in tutte quelle programmazioni settimanali su fasce orarie diciamo che non è ancora flessibile come il nostro programma scheduler che vediamo nelle varie versioni su home assistant e trovate anche un video addirittura uno short fatto in spiaggia dal sottoscritto durante le vacanze da andare a cruzare come funzione come si programma ma è molto intuitivo perché dal punto di vista grafico è veramente accattivante l'unica pecca è che è una programmazione settimanale però con fasce d'orario non inferiori alla mezz'ora che magari per tipologie d'uso ad esempio legati all'irrigazione un'irrigazione a goccia quant'altro può essere magari troppo lungo però molto utile ad esempio per accendere e spegnere le luci per il riscaldamento e quant'altro andiamo a vedere come funziona entrati nel crea programma andiamo a selezionare l'iconcina vabbè prima si dovrebbe mettere il nome comunque noi andiamo a selezionare il concino in questo caso il climatizzatore andiamo a dare il nome condizionatore e vedete che qua sotto cliccando sopra e trascinando il mouse andate a individuare le zone in cui dovrà essere attivo in quella determinata fascia oraria poi potete spostarle su e giù potete personalizzarlo come volete si può anche cancellare cliccando lì sopra vedete che dal punto di vista grafico è veramente accattivante si crea torniamo al nostro programma di qua potete spostare e personalizzarlo in informazioni vedete che trovate lo stato in questo momento l'impostazione eventualmente le correlazioni adesso io vado a estendere giornate di martedì che praticamente nel momento in cui sto facendo il video a tutto il giorno e superiamo l'ora odierna che tra l'altro è un'ora abbastanza tarda di qua vedete che c'è ancora possibilità di andare a selezionare l'area dove andarlo a classificare ad abilitarlo a disabilitarlo vedete qua in informazione ora trovate la stato di acceso questo potrete poi utilizzarlo per programmare l'accensione e lo spegnimento dei vostri dispositivi sicuramente questo aiutante non è ancora flessibile al 100% come ho detto prima ma sicuramente i nostri sviluppatori faranno di tutto per renderlo personalizzabile al 100% e con settembre è arrivata un'altra novità sul canale pensiero architetto hanno attivato il pulsante grazie col quale potete offrirmi anche solo un caffè oppure un piccolo contributo per le guide che vado a realizzare sul mio canale e che magari vi sono state utili se invece non volete tirare fuori il portafoglio nessun problema vi basta anche solo un mi piace un commento ancora meglio e se non siete iscritti al canale ricordate di iscrivervi e cliccare la campanella in più per tutti quelli che vogliono abbonarsi al canale vi lascio un breve video dove spiega il tutto ciao ragazzi buona domotica a tutti al prossimo video ciao se vuoi sostenere il mio canale e avere il codice in regalo assistenza dedicata puoi aderire ai miei abbonamenti dorico ionico corinzio e barocco col primo abbonamento del 1 99 puoi ricevere il codice editabile e chat dal vivo con l'abbonamento del 1 99 per ricevere tutti i vantaggi dell'abbonamento precedente la chat dal vivo h24 sul canale telegram e live streaming in più con l'abbonamento del 24 99 oltre agli vantaggi precedenti puoi ricevere il codice editabile assistenza telefonica e una routine al mese e infine l'abbonamento barocco dal 1 99 99 per richiedere un video dedicato ed ora se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale metti un mi piace al video e buona domotica a tutti sul canale pensiero dell'architetto